Non volendo far diventare l'accumulo di polvere un sedimento oggetto di futuri studi sulle abitudini di vita dell'uomo del XXI secolo, ho deciso di comprare uno spolverino elettrostatico. Probabilmente si sarebbero fatti un'idea sbagliata, infatti gran parte dell'economia attuale è incentrata sul combattere la polvere e molti imperi economici sono stati costruiti su di esso. Certamente il semplice piumino elettrostatico non può fare miracoli, anche se a loro dire in grado di attirare tutta la polvere del mondo, grazie alle proprietà elettrostatiche, ben note già gli antichi greci, che si divertivano a strofinare l'ambra su pezzi di stoffa, notando appunto che dopo questo procedimento alcuni materiali venivano attratti dal pezzo di ambra. Dunque più che attirare sicuramente sparpaglierà la polvere in ogni dove, quindi abbinarlo ad un buon aspirapolvere magari robot, sarebbe la cosa ideale. Spieghevole ed estensibile sarà in grado in un batter d'occhio di rimettere in circolo tutta la polvere, che se non aspirata ovviamente tornerà esattamente dov'era. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse invitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.